Ciao ragazzi, benvenuti su Castiub Drums, nel video di oggi sono in una postazione un po' diversa perché di solito mi vedete lì seduto alla batteria, oggi sono qua, ho il computer davanti, ho il mio trackpad, ho le mie cuffie perché voglio mostrarvi il mio nuovo corso Coordinazione Totale, un corso completamente dedicato ovviamente alla coordinazione, voglio proprio farvi entrare nel corso, voglio farvi scoprire tutto quello che c'è perché è un corso veramente con tanta roba che secondo me, devo ammetterlo, l'ho già detto anche su Instagram eccetera, ho finito questo corso, l'ho guardato e devo dire che sono veramente contento di come sia avvenuto, di tutto il discorso, di tutta la struttura del corso, sono veramente contento quindi non vedo l'ora di mettermi al computer con voi per farvi scoprire tutto tutto quanto, farvi sentire un po' di cose, dirvi tutto. Vi ricordo che Coordinazione Totale è in sconto fino al 7 aprile, quindi in sconto lancio, potete approfittare di questo sconto che poi, così tanto sconto non si ripeterà più, quindi mi raccomando, fino al 7 aprile se siete interessati potete usufruire di questo sconto, direi, mando la sigla, vi spiego ancora due o tre cosine, poi partiamo a vedere il corso andando sul computer. Coordinazione Totale, come è composto? Allora, Coordinazione Totale è un videocorso che ha al suo interno più di 7 ore di video, ha 41 video totali del corso e diviso in 6 aree didattiche. La cosa che ho pensato nel momento in cui ho deciso di fare un corso sulla coordinazione è stata la divisione migliore, secondo me, è quella di partire dalle fondamenta, quindi studiare la coordinazione proprio dalle fondamenta, con i ritmi principali che ci servono assolutamente, quei ritmi che un batterista deve sapere assolutamente e più che sapere, deve saper gestire anche, perché poi magari suonare un groove sempre uguale è semplice, o comunque lo si riesce a fare, ma nel momento in cui magari dobbiamo cambiare qualcosa al groove, dobbiamo suonarlo in modo diverso, la dinamica è strana, eccetera, ci va coordinazione, ci va controllo, quindi basi della coordinazione nella prima area didattica e successivamente ci sono altre 5 aree didattiche, quindi 6 aree didattiche in tutto, in cui andiamo a studiare la coordinazione nei vari generi musicali principali. L'area didattica 2 è dedicata al rock, poi l'area didattica 3 al pop, poi il funk, poi il jazz e le terzine, e infine l'ultima area didattica è dedicata al concetto di straight versus shuffle. Ci sono un po' di groove che sono scritti straight, quindi dritti, quindi in ottavio sedicesimi, ma sono da interpretare shuffle, una cosa che non molti sanno, ma nella vostra carriera batteristica potrebbe capitare questa cosa, quindi ho deciso di inserirvela nel corso, perché per quanto riguarda la coordinazione cambia tutto totalmente. Quindi, allora, facciamo così, mi metto le cuffie e partiamo subito. Allora, il mio corso dove si trova? La coordinazione totale dove si trova? La coordinazione totale si trova sul mio sito gastubedrums.it. Quindi, andando sul computer, la prima pagina che potete vedere in questo momento in cui è stato lanciato il corso è questa qua, proprio la pagina con all'interno coordinazione totale. È arrivato coordinazione totale, parti dalle fondamenta e domina l'indipendenza, la batteria nei quattro generi musicali più famosi, rock, pop, funk e jazz. Nessun groove ti spaventerà più, qualsiasi sia la difficoltà. Sotto, ovviamente, scopri coordinazione totale e vi ho anche scritto quando finisce l'offerta lancio. Quindi avete proprio i secondi, minuti, le ore che vanno indietro perché, appunto, io adesso sto registrando il video il 30 aprile 2023. Ovviamente l'offerta lancio per l'offerta lancio ci sono ancora sette giorni, ma voi ne avete molti meno perché, appunto, mancano pochissimi giorni per l'offerta lancio. Quindi, andando giù, facciamo così, andiamo direttamente a scopri coordinazione totale e entriamo nella pagina del corso. Quindi, qui avete due possibilità. Acquista ora oppure ricevi materiali gratuiti. Allora, lasciamo un attimo in sospeso questo. Qui avete il video iniziale del corso in cui potete andare, come potete sentire anche, potete andare a vedere la prima lezione del corso in cui vi spiego come funziona tutto quanto. Sotto avete scritte un po' di informazioni per chi è il corso, quanto dura, quante sono le lezioni, dove lo puoi vedere perché alla fine, essendo un corso online, si può vedere ovunque. C'è scritto dell'ebook che dopo vi farò vedere, c'è scritto delle basi scaricabili, perché comunque c'è un botto di roba, ragazzi, in questo corso. C'è veramente un botto di roba. Infine, ci sono i bundle nel caso in cui voleste risparmiare comprando più di un corso, ma, allora, vi ho lasciati un attimo qui in sospeso. Perché? Allora, acquista ora è per acquistare il corso. Mentre acquista ora è per acquistare il corso nel caso in cui siate decisi che quello è il corso che fa per voi. Se il corso non sapete se è il corso che fa per voi, ricevi i materiali gratuiti, ci cliccate sopra, e qui inserite il vostro nome, la vostra mail, e inviate la richiesta. Con questa richiesta, praticamente, vi invierò dei materiali gratuiti del corso. Quindi vedrete delle lezioni gratuite, vedrete tutta la struttura del corso, quindi tutti i video, come sono strutturati, come sono gestiti, quali sono gli argomenti, qual è la durata, tutto quanto. In più, tra questi contenuti gratuiti, uno lo sceglierete voi, perché a un certo punto vi dirò, ok, che contenuto vuoi vedere? Clicca e guarda il contenuto che vuoi, perché almeno capisci se, in base a quel contenuto che ti serve, può fare, appunto, al caso tuo questo corso. Ma, dopo l'acquisto, se decidete di acquistare il corso, arriveremo su questa pagina. Quindi, proprio la pagina in cui possiamo vedere tutti quanti i video del corso. Come potete vedere, le aree didattiche, come vi ho detto, sono sei, partendo dalle fondamenta, poi attraversando tutti i generi, e infine andando alla parte di straight versus shuffle, e qua, in pratica, avete tutti quanti i video. Nel momento in cui acquistate, vi arriverà una mail con il PDF, che è un PDF, come potete vedere qua, di più di 100 pagine, in cui all'interno ci sono tutti quanti i contenuti trascritti, quindi tutte le trascrizioni di tutto quello che suono, le spiegazioni, sempre, come ad esempio qua, introduzione delle letture ritmiche, che tra l'altro le letture ritmiche sono una cosa fondamentale per questo corso, vi spiego un po' come funziona, e poi vi lascio tutte le letture. Questo per tutto, tutto, tutto quanto, e ragazzi, io vi faccio vedere come potete vedere sto scrollando tutte le pagine che ci sono, e sono, andiamo in fondo, per farvi vedere la pagina, stiamo parlando di, mi sono incasinato a fare questa cosa, ho sbagliato, vabbè, niente. Stiamo parlando di 104 pagine, e c'è veramente tutto, è praticamente un libro, è praticamente un libro. Quindi, allora, questo è il PDF. Andando alle lezioni, noi possiamo andare a prendere una qualsiasi lezione, ad esempio il secondo ostinato fondamentale, aprirla e vederla. Clicchiamo su play. Allora, animati a questo punto, abbiamo capito come funzionano le lezioni, abbiamo capito come funzionano le permutazioni, abbiamo capito come funziona la tecnica della cassa. Quindi, voglio darvi in questa lezione un secondo ostinato. In questo primo capitolo ci saranno tre ostinati principali, che sono gli ostinati principali. Tutta la spiegazione deve essere sempre... Tutte le parti suonate, ovviamente. Prima, molto lentamente. Questo è un errore. Qui vi stavo facendo vedere un errore. Questa cosa qui, no. Ricordatevi che l'ostinato non deve cambiare mai. Quindi... Deve essere sempre uguale all'ostinato, è la cassa che deve... Questo perché nei video vi faccio sempre vedere come deve essere fatto, vi faccio vedere gli errori principali, vi faccio vedere tutto quello che dovete e non dovete fare, perché è importante poi che riusciate a capire gli errori. Quindi vi dico, questo mi raccomando, non fatelo. E vi elenco tutti gli errori che non dovete fare per riuscire a indirizzarvi sulla strada giusta. Questa è solo una delle 41 lezioni che ci sono all'interno del corso. All'interno del corso ci sono, dopo alcune lezioni, una lezione, diciamo, di controllo, tra virgolette, una lezione di recap, in cui andiamo a suonare una canzone. Ad esempio, dopo aver fatto queste cose qua, c'è la prima canzone rock, nella redditica 2, dedicata al rock, che io sono già a metà, ma vabbè... di attaccare la nostra stabilità, sia come siamo seduti, sia mentale, perché dobbiamo pensare qualcosa in più. Qui vi spiego bene tutto il brano, come pensarlo, come suonarlo, l'intensità, la dinamica, la coordinazione che serve, e poi vado a farvelo sentire. Adesso lo cerco, dovrebbe essere... Eccolo qua. Sentite, prima ero coordinazione in quarti sul crash, adesso coordinazione in ottavi sul charleston, qui siamo ancora tutti in ottavi. Quindi, qui ovviamente siamo ancora tra virgolette all'inizio del corso, è ancora semplice, ma poi, ad esempio, se vado a vedere la canzone dopo, andiamo a cercare la canzone funk. Ecco, questa canzone qua, ad esempio, disco funk, è una canzone funk basata tutta sul levare, perché nel funk comincio parlandovi del levare, qui, dopo avervi spiegato tutta la canzone, eccetera, anche qua ve la suono. Sentite che qua... Il portamento è completamente diverso. Qui sono andato a imbattere, quindi ho cambiato lo spinato, cioè la ritmica che suono. Che piccato a sto pezzo, a me è gasa un sacco. Ok, qui è finito, vi volevo far sentire un pezzo, c'è un pezzo stranissimo. Eccolo qua. Sentite qua. Qui in questo caso vi aiuta a contare, perché è molto difficile. Sentite gli accenti. coordinazione anche col piede sinistro, ovviamente qua, il charleston. è strano questo, sentite. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. È veramente particolare questa parte qua, perché sembra andare un po' fuori, quindi dobbiamo concentrarci, dobbiamo contare, e poi intanto dobbiamo stare attenti a mantenere la coordinazione giusta. Qui tra l'altro col charleston avevamo una coordinazione che stava tenendo il levare con il piede sinistro. Anche il piede sinistro affrontiamo un po' di cose per quanto riguarda la questione aperture, oppure aperture sia per quanto riguarda quando suoniamo proprio il charleston e dobbiamo aprelo, sia mentre stiamo suonando ride, ma dobbiamo tenerci il click, cioè il metronomo, con il charleston. E poi, andando avanti, comunque questione jazz, questione jazz vi spiego. lo swing prima e poi alcune applicazioni. Qui ad esempio io vi ho preso le applicazioni, quindi vi spiego un po' di cose. Sempre ovviamente coordinazione, quindi la coordinazione che vi serve per poter suonare le principali applicazioni jazz, come suonare la cassa, quindi molto più piano rispetto al solito, come suonare il charleston sul 2 su 4, lo swing sul ride, le ghost con il rullante. Tutte queste cose qua, suonato sempre anche molto lento, e poi ecco qua. Questa è brasmette tosta come coordinazione nel jazz. Qui sto andando a suonare Ride e charleston, che suonano l'ostinato, quindi la ritmica sempre uguale, mentre cassa rullante fraseggiano, cioè cambiano. Quindi questa è una coordinazione bella strana, bella tosta, però ovviamente siamo già abbastanza avanti. E poi anche qua, per completare tutto, dopo aver visto tra l'altro il fast jazz, anche cioè il jazz veloce, quello la coordinazione del fast jazz, andiamo a suonare un brano jazz. Quindi ve lo spiego, come al solito, e poi ve lo faccio sentire. Bellissimo sto pezzo, tra l'altro. Che figata suona sta musica, mi viene la pelle d'oca. Poi, ovviamente, ragazzi, io non sono un jazzista, quindi non vi voglio spiegare come suonare in modo musicale nel jazz, i film, nel jazz, non è un corso sul jazz, ma dovete pensare che qui vi voglio dare lo schema che vi serve per poter studiare la coordinazione di quel genere. E la cosa importante, allora, le due cose importanti, andiamo ancora un attimo su computer, così vi faccio vedere una cosa, poi vi dico quello che vi volevo dire. Allora, in ogni canzone, in ogni brano in cui c'è una canzone, c'è un loop, perché oltre alle canzoni ci sono anche dei loop, o ci sono cose da scaricare, qui sotto, nell'area downloads, avete i brani sempre con click e senza click, quindi il click iniziale c'è, avete due battute di click iniziale, ma poi, potete suonare la canzone con il click sempre sotto, oppure senza click, senza il metronomo. non mi ricordo cosa vi volevo dire di altro. Ah sì, eccomi. Allora, volevo dirvi che, come vi ho detto, la cosa importante in questo caso è lo schema che vi do per quanto riguarda la coordinazione, perché con questo corso, con coordinazione totale, la questione non è solo quella di dire ok, studio la coordinazione che Luca mi fa vedere nel corso e basta, e poi è finito il corso, è finita lì. la sfigata, secondo me, è che ho impostato il corso in modo tale da spiegarvi uno schema e darvi tutti gli strumenti che vi servono per poter poi imparare qualsiasi tipologia di coordinazione. Quindi, voi suonate sempre metal e volete studiare la coordinazione metal, a parte che all'interno del corso ci sono un po' di cose che sono applicabilissime al metal, ma dopo aver fatto il corso voi potete crearvi i vostri esercizi per la coordinazione perché avete imparato come si studia la coordinazione. Quindi, andare ad applicare quello che abbiamo studiato alle vostre esigenze. Questa è la cosa importante, secondo me. Vi do tanti esercizi, tante cose da fare, migliorerete tantissimo e poi, dopo il corso, capirete come migliorare ancora di più. Quindi, ragazzi, con questo spero che questo vedere il corso, questo spiegarvi il corso dall'interno, eccetera, vi sia piaciuto, vi sia stato utile e vi abbia chiarito un po' le idee. Se avete qualche dubbio, se avete qualsiasi altro dubbio, comunque non preoccupatevi, scrivetemi qui sotto nei commenti o scrivetemi alla mail luca.gastubedrums.it per chi è già dentro il corso e ha qualsiasi dubbio su una lezione specifica, sotto ogni lezione ci sono i commenti, quindi potete commentare direttamente sotto la lezione, io vedo direttamente il commento sotto quale lezione è e così capisco subito il commento a che cosa è riferito. Quindi, questa è una cosa secondo me comodissima, così ho la possibilità di rispondervi al volo, capire al volo quali sono le vostre esigenze e tutto quanto. Quindi, ragazzi, vi ricordo che coordinazione totale è in sconto solamente fino al 7 aprile quindi ancora per pochissimo. Io vi saluto, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo video, se vi è piaciuto cosa ne pensate del corso e datemi dei feedback in generale. Quindi, ragazzi, grazie mille per essere arrivati fino al video video. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!